Ce l'abbiamo? Ah, ok. Stiamo registrando? Sì, stiamo registrando. Perfetto. No, come col solito? Ok. Ok. Ti blocco lo schermo. 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 Allora, innanzitutto grazie per essere venuti qui numerosi e per essere presenti numerosi anche online. Quella di oggi è la seconda special lecture del ciclo di conferenze dedicato alla vernacularizzazione tra Europa e Asia. Il titolo lungo non ve lo cito adesso, però insomma comunque lo conosciamo. E questa seconda lecture verrà tenuta dal professor Pe Junyong della Korea University Sejong Campus, che è un campus abbastanza recente, situato in questa nuova città, che è la sede di tantissime università e di tantissimi uffici governativi, questa Shinshi, come la chiamano loro, dedicata proprio a Re Sejong e al lavoro e al contributo che questo illuminato sovrano ha dato alla storia culturale, linguistica, amministrativa, insomma, alla storia complessiva della Corea, di questo paese che noi stiamo studiando e che amiamo molto, chi in un modo, chi in un altro, ma che amiamo molto. La conferenza di oggi si intitola, oddio me lo devi dire così perché, ecco, grazie, ecco. Allora, in coreano si intitola Choson Shidae Hangul Ui Soe Kugosa Jok Hachi, tradotto letteralmente sarebbe il valore linguistico, storico-linguistico, dei testi medici in Hangul, quindi in vernacolare, della dinastia Choson, quindi stiamo parlando del premoderno, del periodo premoderno. In inglese noi abbiamo messo questo titolo, Medical Manuals in the Vernacular in Choson Dynasty, Korea, e quindi lascio la parola al professor Peh, che è anche un illustre collega, nonché proprio compagno di ricerca, cioè perché stiamo facendo anche una ricerca insieme, e quindi lascio a lui la parola. Professor Peh, the floor is all yours. ha detto, grazie. ragazzi collegati in online potessero dirci se tentano, perfetto, perfetto, per me non ciò che mai posso fare, faccio due te, ok, 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 ok Grazie a tutti. 24시간 정도 걸렸어요. 비행기를 타고 20시간 정도 비행기를 타고 공항에 내려서 어제 도착해서 오늘 강의에 왔습니다. 여러분들 보니까 너무 반갑습니다. 제가 오늘 소개할 내용은 조선시대 한글의서의 국어사적 같이 메디컬 북스라고 하죠. 의서라고 해요. 한국어로는 한글은 잘 알고 있죠. 한국어의 문자를 한글이라고 하는데 한글이 만들어진 것이 1443년. 지금부터 한 500년, 600년 전에 만들어져서 그 이후로 한글로 쓴 여러 가지 책들이 있었어요. 그 중에서 오늘 소개해 드릴 것은 의학과 관련된 메디컬 북스입니다. 강의 시간이 오늘 1시간 반 정도 되어서 준비한 내용을 다 할 수는 없을 것 같고 재미있는 부분을 조금 조금씩 소개하겠습니다. 네 가지 정도 한글의서가 무엇인지에 대해서 한번 살펴보고 그리고 한글의서의 종류와 역사적인 변천에 대해서 살펴보고 실물로 몇 가지를 살펴보는 그런 시간을 교수님 학생들이 좀 번역했으면 하는데요. 그래요? 조금 번역 잘 맞게라도 번역했으면 좋겠는데 네. 조금 번역하시고 조금 번역하시고 아 그럼 제가 조금 말씀하고 이렇게 한글 의서가 무엇이냐 라는 것인데 방금 말씀드렸듯이 이 그림으로 볼게요. 이 그림을 보시면 여기가 이제 1443년이죠. 여기 이제 훈민정음이 만들어진 식이고요. 네. 그럼요. 이제 훈민정음 헤레본이 이 책이라는 설명서가 1446년에 나타났습니다. 그리고 이제 한 20년 후에 가장 처음으로 나타난 이 medical books가 구급방이라는 책입니다. 네. 이 책이 또 23년 후에 나타납니다. 네. 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 한글 의서의 종류가 아주 다양합니다. 네. 네. 여기 이제 종합의서류라는 것이 컴페인시이고요. 네. 구급방료 emergency. 네. 이름에 보면은 구급방, 구급 간이방, 구급 총가 구급방, 구급 구급이라는 용어들이 나타나있고. 네. 네. 이제 지금도 production의 여러 가지 신뢰 기술을 하고 있는 책을 보여 드리고 다른 책을 보여주기로 했습니다. 그래서 어떤 책을 보여주고 있는 책을 beschäft 부른들들이 다른 책을 강보로는 책을 배달해주는 것입니다. 그래서 모든 책을 Sutpen을 이해하지 않는 책을 가지고 있는 책을 보여줄 수 있습니다. 그리고 그 책을 좋아해요. 여러 책을 보여주기 전에 책을 보여주 Şey아 고급된 사류들라고 Hut. 네. 그리고 가만히 firewall에 스테�의 Fund. 여기 있으면 더 좀 더 크게 길어로와, quindi basta capire bene questa parte introduttiva e poi tutta la spiegazione che seguirà successivamente si rifà a questa classificazione quindi comprehensive, poi dell'emergency remedies, poi della onyokbang, quindi sono degli infectious disease, quindi delle malattie infettive poi quelli relativi al vaiolo, che pure era un gravissimo problema e anche le persone pesantemente malnutrite, quindi i rimedi per salvare, per soccorrere le persone che morivano di fame e che quindi soffrivano di grave malnutrizione poi ci sono i libri di farmacologia, quindi i libri che insegnavano a fare delle medicine per curare le varie malattie i volumi poi dedicati alla pregnancy, quindi alla gravidanza e alla nascita del bambino, dei bambini e poi i volumi dedicati alla cura degli ascessi, di queste bolle purulente che hanno creato comunque un grave problema durante la dinastia e al punto tale che persino alcuni sovrani sono morti per queste malattie e poi anche altri libri tipo questo libro di veterinaria e quello del forensic medicine, quindi della medicina legale ci sono poi queste tabelle del quindicesimo secolo, del sedicesimo secolo, quindi i volumi prima li abbiamo visti ordinati per tipologia, adesso li vediamo ordinati per cronologia quindi per stampa, data di apparizione, di creazione dei testi poi il diciassettesimo secolo, 17 seggi è troppo molto, 18 seggi, 19 seggi, 20 seggi e poi anche nel 18, 19 e 20 secolo ne ho ne sono circa 28 specie questi testi poi, la cosa importante da considerare, da tenere presente è che questi testi sono stati quasi tutti pubblicati a cura del governo centrale quindi si tratta di stampe centralizzate, di controllo centralizzato della salute del paese questa tabella quindi li raccoglie da un punto di vista verticale e cronologico e orizzontale tipologico nel quindicesimo secolo l'alfabeto è stato appena inventato quindi ce ne sono soltanto due e sono i testi che vi ho presentato prima il cucupang e il cucup canipang nel sedicesimo secolo sono molti di più si vede insomma dei titoli che appaiono e sono in gran parte testi che si occupano di malattie infettive il 17 secolo è il secolo in cui questi testi sono molto più voluminosi molto più numerosi infatti si vede ci sono tantissimi titoli e tra questi c'è anche il tongui poggam che è uno dei testi più importanti e più prestigiosi medici diciamo noti e pubblicati durante la dinastia Choson è una compilazione medica particolarmente importante e voluminosa in almeno 22 o 23 volumi quindi è comunque il punto di riferimento più importante anche per tutte quante le pubblicazioni successive che sono magari più tipicizzate insomma più caratterizzate e diciamo quindi nel diciottesimo diciannovesimo e ventesimo secolo si assiste quindi a una diciamo una trasmissione della tradizione formata creatasi con il tongui poggam perché sono tutte pubblicazioni che in generale derivano appunto da questo principale testo compilato appena dopo le invasioni giapponesi della Corea quindi le engine wars in ognuno di questi testi per ognuno di questi testi io mi sono occupato quindi di controllare cioè di catalogare tutte le terminologie quindi queste o qui i termini il lessico usato in questi e il lessico medico ovviamente usato in tutti i testi non lo possiamo li possiamo vedere tutti quanti però guardando man mano andando a vedere man mano alcuni testi insomma che io ho trattato vi farò lo highlight di delle principali insomma di alcuni esempi citati nei testi quindi il primo testo è il cucupano del 1466 quindi in assoluto il primo testo in alfabeto testo medico in alfabeto vedete la cioè la strutturazione è prima tutto il contenuto in hanmun un po più grande quindi con i caratteri più grandi e poi in alfabeto i caratteri un pochino più cioè in caratteri un pochino più piccini che spiega che traducono e spiegano il contenuto del del pezzo diciamo del brano in hanmun nel quale città riuscite a leggere riuscita a vedere forse dobbiamo spegnere un pochino un pochino la luce l'ortografia quindi anche le lettere presenti in questi testi sono ovviamente le lettere che esistevano allora vi ricordate insomma per chi ha fatto già l'esame di storia della lingua 1 e soprattutto anche per chi sta seguendo adesso storia della lingua 2 non ne abbiamo parlato abbiamo visto che ci sono lettere dell'alfabeto che c'erano durante il cioè che il re sejong aveva contenuto aveva incluso nel nel testo nel suo testo e che invece poi sono state sono state abolite perché nell'uso poi non sono 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 più servite no quindi da 28 siamo passati a 24 questi testi ovviamente sono un pochino più difficili cioè presentano appunto le siti della la questa anche queste 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 lettere per cui per voi potrebbero essere alcuni di voi almeno potrebbero essere un pochino più complessi ma per scusate dovrei essere più breve di lui invece sono a volte un pochino più lunga ma perché in questo caso per esempio ci tenevo insomma a richiamare anche la questione delle lettere caduta in disuso eccetera quindi adesso andiamo a guardare un contenuto abbastanza interessante Questa è una preoccupazione, tutti noi che veniamo per la prima volta a Venecia senza barriere, senza niente. E quindi qui in questo primo testo, che appunto è un testo di rimedi d'emergenza, il Cucupang del 1466, ho scelto il brano, diciamo il punto in cui si spiega come salvare una persona che è caduta nell'acqua che forse sta annegando. E quindi c'è ovviamente l'espressione in hanmun, e poi c'è la spiegazione, quindi iksu significa in hanmun, in sino coreano, noi lo chiamiamo sino coreano, significa cadere, nell'acqua, no? E poi in traduzione in coreano c'è scritto sarami, mure, padinil. Ovviamente abbiamo anche degli altri fenomeni linguistici qui, che poi uno l'abbiamo spiegato mi pare proprio o ieri o l'altro ieri, sulla palatalizzazione della tigut, che diventa c, no? Quindi qui è padinil, ma è paginil, no? Quindi il fatto che la persona sia caduta nell'acqua. Allora, voi di che anno siete? Quindi ci sono primo anno, secondo anno e terzo anno, tutti e tre gli anni, vero? E non c'è nessuno della magistrale? Collegato c'è qualcuno della magistrale? Forse lo possono... Ok. Ok. 3학년이면, 내가 하는 말 많이 알아듣죠? E quindi, c'è quella di 1학년도, c'è stato? E quindi, c'è stato? E quindi, c'è stato? E quindi, c'è stato? E quindi, c'è stato? su un canale un anno, questo scato è stato un canale questo. Ce sarà il canale dell'acqua, ci sono quindi call it name. Okay. Pi question, nel caso delle persone che cadono nell'acqua e intanto bisogna tirarle fuori e metterle lungo la riva del fiume, del mare, poi portare un so che sarebbe un bue un bue che è caduta nell'acqua con lo stomaco al di sotto però metterlo sopra, appoggiarlo sopra il dorso della mucca poi prenderlo per i piedi e per le braccia, quindi da entrambe le parti del bue poi far muovere per passeggiare, per camminare il bue e quindi quando poi uscita l'acqua dallo stomaco, poi uscita tutta l'acqua che ha bevuto si sveglia, l'infortunato si sveglia e allora in quel momento bisogna dargli una determinata medicina questo è un medicinale che veniva dato per far riprendere questa persona e quindi si, ho, si, ho, si, ho, che è una cosa è molto, è una cosa? siok 이라고 말을 했어요 반대로 그 뭐야 siok이 혹시 만약에 1부인거죠 아 혹시 혹시 늙은 생강이나 그니에 주치라 라고 했는데 그 늙은 생강 아시오 진성이나 진성 생강이 아니요 생강을 이빨에다가 이렇게 조금 조금 묻혀서 깨도록 만듭니다 ok e poi usare anche la polvere la polvere di ginger per appoggiargliela strofinargliela un po tra le tra le labbra per perché anche questo è un sapore che aiuta poi a riprendersi 네 그래서 요 그림을 보면 요거 오른쪽은 이제 현대적으로 물에 사람이 빠졌을 때 이렇게 누르고 우옥을 이렇게 돌려서 그리고 이 소가 소 등이 이렇게 거꾸로 태워서 소을 끌고 다니는거죠 꿀롬꿀롬 하니까 물이 빠지게 되는거 예외적으로 그 인�日는 그 너로 말라고 하는데 그는 그의 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 뷔에서 via, tiravano la persona per far uscire l'acqua, invece no, tiravano il bue per farlo camminare e con il movimento comunque l'acqua ingerita veniva poi espulsa. Un po' difficile ai tempi nostri, soprattutto la venecia. La venecia è molto difficile. La città del corso, c'è molto molto più grande, quindi la città di città di città. Quindi qui vediamo, città di città, città di città. Città di città, in cui città città, E quindi al posto del bue, quando non c'era il bue, su un tavolo, cioè una superficie un pochino sollevata, ci si metteva una persona a pancia in giù, stesa, e poi quest'altra persona, l'infortunato, a cavallo, come se fosse stato, diciamo, di traverso, come se fosse stato il bue. E poi? E poi? E poi, se l'acqua riesce, allora vuol dire che la persona si salva, si può salvare, insomma, sopravviverà. Un particolare molto divertente di questi emergency remedies che c'erano durante la dinastia Choson. Se deve entrare qualcuno, può entrare, non so, diteglielo se ha ritardato, magari può entrare, ci sono ancora posti dentro. Ci sono posti dentro? C'è un concetto, anche questo appartiene alla stessa categoria dei rimedi di emergenza, però questi sono i simplici rimedi di emergenza, sono cuo c'è un concetto. nel titolo c'è la parola semplificati ma in realtà il volume rispetto a quello precedente è ancora più spesso nel quattro c'è la parola semplificati e la parola semplificati e la parola semplificati il volume rispetto a cui c'è la parola semplificati, la parola semplificati, il volume rispetto a cui c'è il volume rispetto a cui c'è la parola semplificati quindi le malattie che derivano dal vento molto freddo, poi dal tempo, non solo dal vento, ma anche dalla temperatura molto fredda e poi quando invece è molto caldo, quindi colpi di calore, tutte queste cose qui La caratteristica di questo testo è che qui dà direttamente la traduzione in coreano, usa il termine in in alfabeto. Quindi non c'è più il sino coreano ma c'è la traduzione. Ciao Martino, buongiorno. No, non c'è ma direttamente il mondo è. Non è è un pozzo di ripieno, non è un pozzo di ripieno. Non è un pozzo di ripieno. Non è un pozzo di ripieno? No. Non è un pozzo di ripieno. Non è un pozzo di ripieno. Non è un pozzo di ripieno. Alla cosa si può fare anche? questo libro di San Teher Ja금단. Vevo vedere, nella foto di fatto un muitas cellulite. Le ricette di queste cellule che areедo nella struttura. 1517년 창진방 찰류라는 책은 아까 살펴봤듯이 두창, 스몰폭스를 치료할 수 있는 그런 책입니다. 그래서 여기 미리 막자란, 라난약, 미리 막자란약 이건 예방을 의미하는 것이고 또 이 두창, 스몰폭스가 진행되는 과정에 따라서 처음에는 어떤 방법을 사용하고 그 다음은 또 어떤 방법을 사용하고 이런 내용이 실려있습니다. 그 다음 나오는 이런 책들은 벽온방이라고 해서 현대의 전염병과 같은 치료를 할 수 있는 책입니다. 간이, 벽온방, 벽온방, 분문, 온역, 이해방. 온역이라는 것이 뜨거운 열이 나는 병이에요. 그래서 이 병을 이런 책에서 모진병이라고 하기도 하고요. 모진병, 모질다라는 혹시 단어를 아나요? 모질다, 조금 무섭다. 엄마가 아이에게 좀 모질게 한다 라는 표현할 때 엄마가 너 공부해, 계속 공부해, 게임하지마. 이런 말, 모질다. 그런 병도 이제 그런 모진병이라고 했던 것이죠. 그리고 또는 덥듯한 병, 너무 열이 많이 오르니까 뜨겁고 더웠던 거죠. 그래서 이런 덥듯한 병 또는 덥단병 이런 표현으로 사용됩니다. 그래서 이 사진을 한번 보시면 조선시대의 드라마 중에 일부 장면인데 전염병이 이렇게 일어났을 때 이렇게 보면 스모크가 있죠. 연기를 피워서 전염병을 좀 막기도 하고 이렇게 많은 사람이 죽어나가기도 하는 아주 무서운 병이었어요. 그래서 이 병을 뜻하는 용어를 모진병, 덥단병, 덥듯한 병 또는 이 병은 보통 봄, 봄에 아주 크게 유행을 했었기 때문에 봄에만 찾아오는 시기병이라고 하거나 시병이라고 하는 이런 용어로 불리기도 했습니다. 네, 그다음 나오는 이게 뭐죠? 이 그림이. 이거 한국어로는 뭐라고 하나요? 감자죠. 감자고 옆에는 그 감자의 친구 고구마인 거죠. 고구마. 그래서 이 과거에 배가 고파서 먹을 것이 없어서 굶어 죽는 사람이 많았습니다. 그래서 정부에서 굶어 죽는 사람에게 이런 구황작물이라고 하는데 감자나 고구마나 이런 것들을 또 먹고 살릴 수 있는 방법을 써놓은 책들입니다. 그 중에 한 가지 식품 이름이 나오는데 미시라는 이름이 나옵니다. 미시를 만들법. 미시가 무엇이냐? 미시. 혹시 아나요? 한국에 혹시 가서 이 미시를 먹어본 사람이 있나요? 미시. 미시는 아주 오래전부터 전쟁이 일어났을 때 집에서 밥을 해먹을 수 없죠. 그래서 쌀이나 이런 여러 가지 그레인, 곡식을 이렇게 볶아서 볶아서 그걸 들고 이제 도망을 하거나 전쟁의 싸움을 하거나 그럴 때 만들어 먹는 것이 미시입니다. 이 가루 파우더로 이렇게 되어 있죠. 지금 요즘 현대 한국 사람도 이 미시라는 것을 좋아하는 거예요. 제가 하나 가지고 왔어요. 퀴노아 요즘은 10가지 그레인을 넣어서 만든 미숫가루라고 합니다. 현대에 대해. 이 미시라는 단어는 몽고에서도 이 미시라는 말을 해요. 몽고에서부터 아마 전해진 전해진 단어가 아닌가 이렇게 생각을 하고 있습니다. 그리고 이거는 요즘은 물에 넣어서 그냥 흔들어서 마시면 되는 거죠. 제가 많이 가지고 오지는 못하고 한 3개 정도. 가지고 왔는데. 하나는 좀 맛이 없어요. 제가 먹어봤는데 좀 맛이 없어요. 그래서 2개 정도 같이 넣어야 조금 맛이 있다고 하는데 여러분들께 오늘 3가지만 선물로 드리고 가겠습니다. 한국의 다음에 오시면 제가 맛있는 미시를 만들어 줄게요. 이것은 조금 맛이 없어요. 그 다음 이것이 아까 스몰폭스라는 언해 두창 집요라는 책이 있고요. 우리 저기 신수에서 더블 부킹을 했었거든요. 10시까지 끝내 하시라고. 10시? 10시 끝내 하시라고. 그래요? 네. 그러면 얘기해 주시고. Allora, c'è stato un spiacevole caso di double booking e quindi anziché un'ora e mezza dobbiamo fare un'ora di conferenza. Mi dispiace, non c'è stata la possibilità di modificare perché c'è in programma un collegamento, anche in questo caso un collegamento Zoom, quindi dobbiamo terminare per le 10. 뭐 중요한 얘기는 이미 다 했습니다. Quello che vi dovevo dire di importante comunque ve l'ho detto, quindi adesso vedremo qualche altro esempio. E poi però comunque il professore ci lascia gli appunti per cui magari anche a lezione possiamo anche vederci, possiamo collegarci un'altra volta online, anche con lui, anche dalla Corea e possiamo continuare a, diciamo, a controllare, cioè a parlare di questo argomento. soprattutto perché so che ci sono delle persone che sono interessate all'argomento medico. questo argomento, questo argomento è un'ottomento, è un'ottomento, è un'ottomento, è un'ottomento. ci sono dei problemi, ovviamente. Ancora li abbiamo tutt'oggi? Quindi dice di pungere il piedino del bimbo con l'ago e sente il dolore il bambino e tirando via la gambina si gira e anche mettere il piedino a contatto con il sale e allora il bambino ritira in dentro i piedi e si gira E poi quando si prepara il cibo si preparano le medicina con la neve con la neve della Shibivore, quindi di dicembre, i cibi non vanno a male e quindi anche le medicine non si rovinano e durano a lungo E anche con questa stessa neve che poi era acqua pulita, c'erano ovviamente problemi di igiene anche dell'acqua, di purezza dell'acqua Ancora adesso lo fanno con l'acqua pulita diciamo della neve? Si, questo è il libro nel 1910 yle, qui qui vediamo, aca lui è la moxibustione, cioè l'uso della moxibustione per cercare di salvare le persone che stanno per morire, insomma che sono gravemente, è un pericolo per essere caduti quindi stanno annegando e questa moxie bustione la si attua la si applica sulla pancia, sempre sulla pancia e si attaccano e che attraverso questa operazione della moxie bustione ci sono poi degli effetti positivi io avevo portato proprio un originale, non un originale, insomma una riproduzione però fedele dell'originale e me l'hanno bloccata all'aeroporto di quindi non l'ho potuta portare, quindi ho portato solo la foto quindi 다음에 한국에 오시면 다양한 책을 소개해 드리고 이 한글 문헌이라고 하는데 이 책을 통해서 한국의 역사 또 한국어 랭기지의 역사도 이해할 수가 있고 또 한국 사람에 대한 이해를 할 수가 있다 그래서 여러분들이 이제 대학원이 생겼다고 들었어요 한국학을 연구할 때 이런 한국의 역사적인 사료를 공부하고 이해하는 것이 한국학 역사를 잘 할 수 있는 방법이 된다 quindi grazie all'uso di questi testi ci si può rendere conto delle evoluzioni nella lingua coreana, nella scrittura coreana, nella storia della lingua coreana e capire anche la vita quotidiana del popolo di Choson, insomma delle persone che sono vissute molti secoli prima sulla penisola coreana quindi e allora vi ringrazio per l'attenzione e finiamo con la promessa di continuare altrove questo incontro che spero abbiate comunque trovato anche divertente e non soltanto interessante grazie infinite ragazzi c'è stata questa questo questo piccola ma almeno insomma un'ora piena di 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 apprendimento di di didattica insomma c'è stato grazie infinite ragazzi grazie grazie grazie